10 giorni importanti perché ci ha permesso di lavorare, di recuperare qualche giocatore infortunato e per prepararmi a questa partita col Vasto Girardi, una partita difficile con una squadra in salute soprattutto sul proprio terreno, una squadra che con un'identità di gioco e a cuore fa una prestazione importante, una squadra che viene a due vittorie consecutive quindi col morale alto e dobbiamo curare tutti i particolari e fare una prestazione importante ecco la prestazione sicuramente nell'affrontare una squadra equilibrata e come il Vasto Girardi che gioca un buon calcio con una prestazione importante, sì in casa soprattutto Vasto Girardi si esprime al meglio, è considerato, non dico la difficoltà del campo perché poi magari siamo un po' tutti abituati a giocare sul sintetico però loro magari sfruttano molto bene il terreno e il fattore casalingo e al di là di questo giocano un buon calcio, un buon fraseggio, costruiscono buone trame di gioco e come ho detto prima bisogna fare una partita importante contro una squadra organizzata come il Vasto Girardi, purtroppo ecco le valutazioni ha fatto che non si giocasse per dieci giorni e poi abbiamo tante partite ravvicinate però in questo periodo ci ha permesso di lavorare e come ho detto un attimo fa, recuperare anche la condizione di qualche giocatore quindi avendo qualche giocatore in più possiamo gestire l'organico per affrontare le partite così ravvicinate. Sì, come ho detto sempre abbiamo un organico abbastanza ampio quindi le partite ravvicinate non ci devono spaventare ecco perché abbiamo la possibilità di dare spazio a tutti quanti però l'obiettivo è uno, fare una prestazione importante ecco di partita la prestazione dell'ultima gara a Casalinga contro la Matisse che nella seconda parte della partita la squadra si è espressa ecco un'ottima trama di gioca, ha fatto una prestazione importante e soltanto gli episodi sono stati negativi